Alessandro Ulieri, il più piccolo in campo, classe 2001, mister Tortola ti ha dato fiducia a quest'oggi, l'hai ripagato con una bella prestazione Tu come hai visto la gara? È stata sicuramente una partita molto combattuta Sì, ho visto una partita molto combattuta, il mister mi ha dato fiducia oggi, ho fatto quello che mi ha detto lui Siamo usciti vittoriosi Insomma, una bella gara, c'erano anche tanti i tuoi compagni della Juniors, quest'oggi tra panchina e in campo Avete dato tutti quello che potevate e che vi ha chiesto di fare il mister È bello, no? Avere comunque anche dei colleghi giovani come te, insomma, vi sostenete a vicino? Sì, è molto bello avere i compagni vicino e fare i loro esordi Come Piriotto, ad esempio, che ha segnato quest'oggi, l'avete molto festeggiato? Sì, pure lui, Juniors secondo me, ha fatto un gran gol oggi e ha dato il massimo appena quando è entrato È sicuramente una vittoria importante da un punto di vista dei punti della classifica Per voi, che appunto esordite e comunque avete questa possibilità di giocare Tu hai già esordito nella Torres, però è un momento anche di crescita, ovviamente Vi serve entrare in campo, stare anche con i compagni più grandi? Sì, è un molto... è bello stare con gente più granita che ti dà fiducia pure quando ti dà la palla Avresti voluto anche segnare, ci hai provato? Eh sì, oggi volevo segnare ma non c'è stata l'opportunità Eh vabbè, sarà la prossima, grazie Auleri Grazie a voi 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 Grazie a tutti.